VAMOS!! partita complicata partita complicata ma l'Atletico Madrid a me non mi ha spaventato ho già sentito nel primo tempo l'Inter che ha giocato male ma che cazzo le partite vedete l'Atletico Madrid ci ha perserito se no una volta una volta Arnaldovic tu a me mi fai perdere 100 anni di vita 100 anni mi fai perdere ti mangi i gol impossibili e poi fai il gol dalla vittoria veramente io non capisco questo giocatore proprio c'è proprio il dna di pazzia dell'Inter perché incredibilmente chi va a segnare è proprio Arnaldovic che io tra l'altro non posso vedere però va bene così va bene così è andata l'andata finisce uno a zero ora andiamo lì a Madrid a fare la storia si può si può scrivere questa storia la partita cardiopalma ovviamente l'Atletico per me poca roba poca roba e noi nettamente più superiore perché abbiamo uno tirato più di loro abbiamo più imperserito loro Lautaro che purtroppo gli manca quel gol mannaggia però abbiamo giocato meglio spiazzi dai ragazzi si può fare l'impresa adesso ce ne andiamo a Madrid al ritorno e ci andiamo a prendere questa qualificazione ai quarti senza sì e senza ma